Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sul cuore di Maria come specchio delle perfezioni di Dio. L'Immacolata è il capolavoro della creazione e il suo cuore ammirabile è lo specchio che riflette perfettamente la santità di Dio. Così scrive San Giovanni Ed. Tra le infinite lodi dello Spirito Santo alla sua Divina Sposa, una ne emerge, donna vestita di sole. Maria è rivestita del sole della divinità e delle divine perfezioni che la riveste, la circonda, la ricolma, la penetra, trasformandola in sé stesso. Maria è un compendio incomprensibile delle perfezioni di Dio, scriveva Sant'Andrea di Creta. Il cuore benedetto di Maria è come un magnifico specchio nel quale l'ardente amore di Gesù ha riflesso tutte le perfezioni della divina umanità in modo meraviglioso. Esso è l'immagine viva della divina unità perché non ha avuto che un solo amore, Dio. Non ha avuto la molteplicità dei pensieri superflui, dei desideri inutili, delle vane affezioni che occupano d'ordinario il misero cuore dei figli di Adamo. Non ha avuto che un pensiero, un ideale, una volontà, un affetto, un'intenzione e un solo desiderio, piacere a Dio e fare in tutto e per tutto la sua volontà. Il cuore ammirabile di Maria ritrae anche la divina semplicità, la doppiezza, l'inganno, la menzogna, la curiosità, l'amor proprio e tutto ciò che è contrario alla santa semplicità non ha mai trovato posto nel cuore di questa celeste colomba. Il cuore di Maria partecipa in modo meraviglioso dell'infinità e della incomprensibilità di Dio. La dignità di Madre di Dio nobilita e sublima tutto ciò che è in lei, particolarmente il suo cuore. San Bernardino da Siena dice che era necessario che ella fosse elevata a una dignità pressoché infinita da renderla simile a Dio per essere degna Madre dello stesso Figlio di Dio. Il cuore di Maria porta pure in sé una partecipazione singolare all'immensità di Dio. Dice San Buonaventura O Maria, vedo in te una grandezza, una capacità più che immensa. In te vedo tre specie di immensità. La prima è quella del tuo seno, che ha rinchiuso in sé colui che è tanto grande, infinito, da non poter essere contenuto dall'universo intero. La seconda è l'immensità del tuo spirito e del tuo cuore, più vasto ancora del tuo seno stesso. La terza è l'immensità della tua grazia, della tua carità. Essa non si estende solo in tutti i secoli e in tutti i luoghi e su tutte le cose, ma è tanto grande da estendersi in una infinità di mondi, se ci fossero. Il cuore di Maria rappresenta ancora in sé la divina stabilità e l'immutabilità divina. È sempre stato costante, fermo, invariabile nel suo perfetto amore verso Dio e in tutte le sante disposizioni che formano un cuore ad immagine di quello di Lui. Il cuore di Maria è un bel riflesso dell'eternità di Dio. Infatti, tutte le sue affezioni sono sempre state indipendenti dalle cose temporali e strettamente congiunte alle eterne, per cui questo bel cuore è stato ripieno di spirito di profezia in modo molto più perfetto di tutti i profeti. Partecipazione dell'eternità di Dio, la quale fa sì che ogni cosa Gli sia presente sempre. Il cuore di Maria rivela in sé una perfetta imitazione della pienezza della sua sufficienza di Dio. Non ha bisogno di nulla, essendo ricolmo di beni infiniti. Il cuore di Maria, non avendo amato che Dio ed essendo sempre stato totalmente vuoto di tutto ciò che non è Dio, è tutto di Dio. Ne consegue quindi che non avendo mai desiderato, né cercato, né goduto alcuna compiacenza o soddisfazione all'infuori di Dio, ha sempre goduto riposo e pace perfetta, perché la sua capacità era continuamente ricolma della pienezza di Dio. Il cuore di Maria è immagine della divina purezza e santità. Purezza e santità sono una medesima cosa, poiché la santità è una purezza perfetta. Per questo è stata chiamata da San Giovanni Damasceno la casa, la dimora di tutte le virtù. Era unicamente unito a Dio, benché costretta a vivere in un mondo pieno di inganni e di male, non ha mai contratto macchia alcuna, né si è attaccato ad alcuna cosa creata, compresi i doni e le grazie di Dio. La purissima santità e la santissima purità del suo cuore superano incomparabilmente tutte le purità e tutte le santità delle creature tutte, meritando di essere, come dice Sant'Anselmo, la degnissima riparatrice del mondo piombato nel più profondo abisso di perdizione. E così, cari fratelli e sorelle, giunti al termine di questa meditazione, concludiamo con la solita preghiera e la benedizione. Ricordati, oh Pissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno sia ricorso alla Tua protezione, abbia implorato il Tuo aiuto, abbia chiesto il Tuo soccorso e sia stato abbandonato. animato da tale fiducia, a Te ricorro, oh Madre, Vergine delle Vergini, a Te vengo, dinanzi a Te mi prostro, peccatore pentito. Non volere, oh Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami, benevola, ed esaudiscimi. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.